Grazie Presidente. Vede, Zoe e Nicolò hanno cinque anni, sono dei vulcani di energia e fanno correre da una parte all'altra le loro due mamme. Arturo ha tre anni e con la sua dolcezza scioglie i cuori dei suoi due papà. A scuola presentano ai loro compagni con orgoglio e anche, come giusto che sia, con totale normalità, le loro due mamme e i loro due papà. Non sanno però che i loro genitori hanno dovuto lottare per ottenere gli stessi diritti e doveri dei genitori e dei loro compagni, anche perché per loro sarebbe incomprensibile il motivo, perché sì, è incomprensibile. Questi bimbi, infatti, non sanno che se quando sono nati la sindaca della loro città non si fosse assunta la responsabilità e il rischio, lo sottolineo, il rischio di riconoscere entrambi i loro genitori, ora loro avrebbero meno diritti. Vede, Presidente, con la sindaca ero io, ero io a registrare quei bimbi, a riconoscere quelle storie ed è uno dei gesti che mi ha reso più orgogliosa del mio ruolo. Perché, Presidente, per quale motivo questi bambini dovrebbero essere discriminati rispetto ai bimbi delle coppie eterosessuali? Quale colpa dovrebbero espiare? Se fossero nati in un'altra città o qualche anno prima o purtroppo qualche anno dopo, tipo oggi, agli occhi della legge questi bambini avrebbero un solo genitore. Potrebbero andare a scuola, in piscina, dal medico con il genitore biologico, mentre l'altro genitore dovrebbe presentare un permesso firmato ogni volta. Potrebbero viaggiare all'estero con un genitore, ma non con l'altro. Guardo i banchi della maggioranza, niente di gravissimo, direte voi. Cosa volete che sia? Un foglio, una firma? Invece non è normale. No, non è normale. E soprattutto è profondamente ingiusto. E poi, cosa accadrebbe se i loro genitori si separassero? Che questi bambini rischierebbero di perdere per sempre una mamma o un papà? Che non avrebbero né diritti né doveri, lo sottolino, né doveri nei loro confronti, i genitori? E cosa accadrebbe se il genitore non riconosciuto decidesse di abbandonare la famiglia? Potrebbe andarsene, ad esempio, senza l'obbligo di provvedere al loro mantenimento, un altro dovere. E se morisse? Ve lo siete chiesti? Allora non spetterebbe il diritto garantito per legge all'eredità. E ancora peggio, cosa accadrebbe se il genitore biologico morisse improvvisamente? Perché purtroppo succede in questo mondo, succede. Beh, Zoe e Nicolò verrebbero tolti alla loro mamma? Arturo verrebbe dichiarato orfano pur avendo un papà? Con quale coraggio lo Stato, che siamo noi colleghi e colleghe, siamo noi lo Stato, potremmo togliere dall'amore della loro mamma o del loro papà questo bimbo o questa bimba, provocando un altro terribile trauma? La verità, colleghi e colleghe, è che nessuno di noi sa rispondere a queste domande. Non abbiamo certezza sulla risposta a queste domande. Perché, e forse non ve ne rendete conto, grave quanto una legge ingiusta è la mancanza di una legge su qualcosa che esiste e ha bisogno di essere normato. Perché? Vi piaccia o no? Questi genitori esistono. Vi piaccia o no? Questi bambini esistono. E non è accettabile che abbiano garanzia o meno a seconda di dove o quando sono nati nel nostro Paese. E potete dire quello che volete per pulirvi la coscienza. Ma poi contano i fatti. E nei fatti voi avete deliberatamente scelto di discriminare i figli delle coppie omogenitoriali. Perché no? Non vi piacciono le persone lesbiche. Perché no? Non vi piacciono i gay. Non vi piacciono i bisessuali. E non vi piacciono i transessuali. Però allora ditelo. Ditelo, colleghi e colleghe. Gettate la maschera, abbiate il coraggio. Dite chiaramente. E rivendicate la vostra scelta ideologica. Perché sarebbe meno squallido rispetto al teatrino che stiamo vedendo e che abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi. Perché voi cosa fate? Vi affrettate a dire che no? Non avete nulla contro le persone LGBT? Ci mancherebbe. Però, beh, non c'è bisogno di altri diritti. Hanno già tutto. E pazienza se lo Stato non riconosce i loro figli. Possono sempre adottarli. Che problema c'è, dite voi? La sentenza della Cassazione e della Corte Costituzionale hanno sancito che il genitore intenzionale può chiedere l'adozione e il Tribunale dei minori valuta la reale esistenza di un rapporto con il bambino. Quante volte vi ho sentito dire questa cosa? Ma vi rendete conto che è un'assurdità? Intanto un governo che si nasconde dietro alle sentenze perché non ha il coraggio di approvare leggi è imbarazzante. Fatevelo dire. Imbarazzante. Ma dico di più. Voi così dimostrate di non averne anche letto quello che dice la Corte Costituzionale. Che dice, uno, ha precisato che l'adozione in casi particolari non è sufficiente. Due, ha esplicitamente detto al legislatore, cioè noi, tutti noi, che dobbiamo intervenire per colmare questa lacuna. E non prendeteci in giro, l'ho sentito anche oggi. Adottare un figlio invece di poterlo riconoscere direttamente non è la stessa cosa. Per una famiglia omogenitoriale significa spendere soldi, energie, tempo, affrontando avvocati, tribunali e sentenze. Vi dico di più. Pensate allo Stato. Continue pratiche che si aggiungono alla giustizia, che voglio dire, mi sembra che da fare ne abbia già abbastanza. In tutto ciò cosa fanno i bimbi? Aspettano. In attesa di vedere i loro diritti riconosciuti. Beh, potreste almeno approvare un emendamento dei Cinque Stelle, sono tanti, ma uno in particolare, no? In cui chiediamo di fare una procedura snella, proprio per l'adozione piena. Al posto dell'adozione in casi particolari. Perché vi devo dire una cosa, forse non l'avete capito. Se vietate le trascrizioni, non vietate le copie omosessuali che a voi poco piacciono di avere dei figli. E ne le punite. Attenzione, non le punite neanche. Semplicemente, purtroppo, farete pagare ai bimbi, alle bimbe, questa vostra scelta in modo punitivo. Ma la cosa che mi colpisce di più è questa furia ideologica, che scaricate sui bambini. E allora dovete tirare in ballo un argomento che poco c'entra, praticamente nulla c'entra con quello di cui stiamo parlando. C'è la maternità surrogata. Da un lato vi timate di smettere pochi sindaci coraggiosi che continuano a riconoscere i diritti dei figli e delle coppie omogenitoriali. E dall'altro lanciate questa proposta di maternità surrogata, reato universale. Ma voi pensate veramente che qualcuno sia favorevole allo sfruttamento del corpo della donna? Siete in malafede. Siete in malafede perché sapete benissimo che è illegale in Italia, come è stato detto. Tra l'altro in Europa sostanzialmente è vietata nella maggior parte dei paesi. E vi dico di più, è stato già detto, nove donne o nove casi su dieci sono uomo-donna, non sono coppie dello stesso sesso. E allora avete anche raddoppiato i danni facendo un obbrobrio giuridico. E lo sapete che un obbrobrio giuridico non sta in piedi. E allora mi sono chiesta ma perché fate una cosa così? Perché? E la risposta è una. Avete bisogno di sventolare una bandiera ideologica per nascondere il fatto che state sistematicamente tradendo il vostro elettorato su tutti i fronti. I fantomatici blocchi navali e gli sbarchi sono quintuplicati. Le accise via e alla prima occasione via lo sconto che c'era sulle accise. Promettevate mille euro con un click durante la pandemia in difficoltà. Adesso siete il miglior esempio di cosa significa una politica economica di austerità. Tagli su tutto, scuola, sanità, imprese, chi è in difficoltà, l'abitare, il diritto alla casa. Attaccavate l'Europa, ve la ricordate, quella dei falchi, cattivi burocrati. E oggi invece per voi, addirittura quando vi dicono che siete bravi perché lo stretto è basso, lo rivendicate. E adesso ci vedremo tra qualche settimana qui in aula perché vedremo l'ultimo tradimento, cioè che ratificherete il MES proprio qui in quest'aula. A differenza di quanto avete urlato in campagna elettorale, le vostre politiche economiche sono in perfetta continuità con Draghi. Siete più austeri di un governo Monti qualunque. E sulle politiche estere, sulle politiche estere, siete meri esecutori delle scelte di Washington. Quindi altro che nazionalismo e sovranismo. E quindi che fate? E beh, servono delle leggi bandiera per tenere vivo il vostro elettorato. Bandiere che però, pensiamo, non so, ai Raif Party per parlare di sicurezza, al pizzo di Stato per far contenti gli evasori. Il problema è che queste bandiere non solo sono inutili, sono dannose. E qui, purtroppo, il danno va proprio sui bambini. Perché, forse non l'avete capito, ma la cosa di cui stiamo parlando sono bimbi. E di cui stiamo parlando oggi gli adulti sono genitori, non sono criminali. E peraltro, io pensavo, questa è una mossa che si sposa anche molto poco con la narrazione del Presidente Meloni, come donna, madre, cristiana, che lotta per la natalità. Ha incontrato recentemente Elon Musk, è stato già detto, ma ha avuto il tempo di fargli notare che uno dei suoi figli nasce da un abominio, come lo definisce la maternità surrogata, lei proprio, la Presidente. Gli ha detto che se fosse per lei finirebbe in galera? Direi di no a giudicare dai sorrisi. Probabilmente non si fa problemi, anzi, chiudo un occhio, perché su quell'abominio, su delinquente da mandare in galera, beh, forse se la persona in questione è un multimiliardario fra gli uomini più utenti al mondo, allora non è importante, si possono chiudere entrambi gli occhi. Ed è questo, guardate, e vado verso la conclusione che io trovo agghiacciante di questa vicenda, l'ipocrisia. L'ipocrisia è l'incoerenza con cui entrate con violenza nella vita e nelle scelte delle persone, stabilendo cosa sia famiglia e cosa no. Voi volete imporre un fantomatico modello di famiglia tradizionale che molti membri di questa maggioranza e governo sono i primi a non rispettare. Quanto Dio, padre e famiglia c'è nell'avere figli fuori dal matrimonio? Quanto Dio, padre e famiglia c'è nell'estra al secondo o al terzo divorzio? E guardate, per me non conta, per me non conta, per noi non conta, per me è la famiglia, per noi è la famiglia, e dove c'è amore, cura, rispetto tra le persone. Però per voi evidentemente no, esistono famiglie di serie A e famiglie di serie B. E allora, presidente, chiudo. Fareste meglio a fare un'unica cosa dignitosa, e cioè ritirare questa folle proposta di legge. E nel frattempo abbiate il coraggio di ascoltare le voci delle famiglie Arcobaleno e mettete la parola fine alla discriminazione in atto nei confronti dei loro bambini. Fate come quei sindaci, anche di centro-destra, la voglio sottolineare, che esistono, ci sono, che in questi anni hanno affrontato senza ideologie, e con pragmaticità la questione, comprendendo l'importanza di riconoscere i loro diritti. Perché, vede, presidente, io non posso vivere serenamente in un paese in cui mia figlia va a scuola con un compagno che ha meno diritti di lei. Io non posso accettare che per la vostra furia ideologica esistano bambini di serie B in questo paese. E io non mi arrendo al fatto che sia normale che dei bimbi abbiano dei diritti negati, perché questo significa che i miei figli, i nostri figli che ha figli in questo paese, evidentemente qualcuno di questi bimbi ha dei privilegi. E lo stesso sentimento con cui noi siamo qui a rappresentare lo Stato dovrebbe essere condiviso da tutti noi. E invece non è così. Non è così. C'è chi pensa che un bimbo sia colpevole di qualcosa e invece un altro bimbo abbia il diritto di essere tutelato. Grazie, presidente. Grazie.